Sì, ripartiamo dal Sagittario, amici del Sagittario, anche per voi sono in arrivo ottime notizie con questi cambiamenti che ci saranno nel corso della settimana, con questi passaggi planetari nel segno del leone e anche questa giornata è una giornata molto bella, molto positiva. Possiamo dire che un periodo di riflessione, un periodo di stanchezza, un periodo di difficoltà può essere definitivamente archiviato per lasciare spazio invece a un periodo di maggiore apertura da parte vostra e soprattutto di maggiore ottimismo ed entusiasmo. La luna parla di rapporti sociali ma parla anche di denaro, di soldi da guadagnare in questa giornata. È una luna particolarmente fortunata anche per chi è in attesa di una notizia. Allora questa notizia positiva potrebbe arrivare proprio in questo giorno.